Il Consiglio regionale della Campania si è riunito per il Question Time. Il Consiglio regionale della Campania, presieduto dalla Vicepresidente Loretana Raia, si è riunito per il Question Time. Discusse numerose interrogazioni rivolte al Presidente della Giunta regionale Vincenzo De Luca. Tra queste quella di Pasquale Difenza, dei moderati, Severino Nappi della Lega, Vincenzo Ciampi del Movimento 5 Stelle, Maria Muscara del Gruppo Misto e Bruna Fiola del Partito Democratico. La struttura dei colli io credo che sia indispensabile per il Centro Trappianti e credo che è una struttura oggi all'avanguardia che possa sicuramente soddisfare le tante tante richieste che ci sono e di cui hanno bisogno oggi le giovani persone e in particolar modo le mamme. Io ho sentito una mamma che ogni notte, di un ragazzo trappiantato, dice io sono costretta ad alzarmi dal letto e vedere se mio figlio respira. Quindi io veramente tengo tantissimo a questa situazione e sono sicuro che possiamo fare tantissimo noi in Regione Campania. Non mi spiego come sia possibile che di fronte a una società che si riconosce a essere in difficoltà, che ha come oggetto specifico le attività culturali, alla SPI di Gonzales, quando emergono difficoltà e problematiche pesanti che attengono quella società, improvvisamente si decida di non affidare più a quella risorse che sarebbero utili anche a consentire il funzionamento della stessa per poi passare ad altre partecipate. È come se si volesse andare dove ancora non ci sono i controlli, ma noi seguiremo anche quelle e vedremo fino in fondo come vanno queste cose. La città di Avellina è l'unico capoluogo di provincia della Regione Campania a non essere dotato di un ambulatorio centro prelievo pubblico. Per cui i cittadini avellinesi sono costretti a recarsi obbligatoriamente in un laboratorio privato convenzionato e con i tetti di spese di cui siamo a conoscenza. Già dal 15 del mese, ma anche qualche giorno prima, i cittadini avellinesi non possono soffrire di prestazioni cliniche ambulatoriali gratuite per l'esaurimento dei diritti di spesa. La mobilità insostenibile della Regione Campania. Ben 300 mila euro nel 2016 sono state date ad Acamir affinché stilasse il piano regionale di mobilità ciclistica. Senza questo piano i fondi nazionali non arriveranno mai in Campania. 540 milioni di euro sono stati destinati alle piste ciclabili e alle attività della mobilità ciclistica per le regioni. L'unica regione che è esclusa è la Regione Campania perché manca di un piano. Il decreto 103 del 2018 che prevede l'istituzione di una rete pediatrica campana che finora però non ha avuto esecuzione. Come primo obiettivo per la Regione Campania ma anche per il mio mandato istituzionale è quello dell'accoglimento di queste famiglie che vivono comunque delle tragedie perché avere un bambino che ha una patologia è comunque una tragedia. Noi dobbiamo essere quanto più efficienti nel dare delle risposte a queste famiglie. Grazie a tutti.